Macchine parcheggiate nelle aiuole, spesso in doppia fila o a chiudere altri parcheggi, spessissimo in curva e sulla carreggiata, perché i posti tradizionali non bastano ad accontentare le esigenze dell'utenza. E se il parcheggio è vicino agli uffici dell'INA e l'aveva fatto pensare a un po' di sollievo, guardando cosa accade ogni giorno, si può ben dire che il problema non è superato. Parliamo dei parcheggi dell'ospedale San Salvatore, dove trovare un posto, soprattutto alla mattina, diventa impossibile. Gli automobilisti sono costretti a lasciare la propria macchina in malo modo, a inventarsi parcheggi, a volte anche originali, le segnalazioni dell'utenza sono moltissime. Anche medici e infermieri hanno difficoltà a trovare il posteggio, un problema certamente secondario con la pandemia in corso, ma atavico e per il quale ci si lamenta da sempre. Ora poi c'è l'università a mezzo servizio a livello di lezioni in presenza, perché altrimenti c'era anche tutta l'utenza di studenti e docenti della vicina facoltà di medicina da considerare e nella parte dietro c'è anche l'ambulatorio per fare i tamponi, quindi il traffico è aumentato in modo considerevole. Già in tempo di ristrutturazione del nosocomio, dopo il sisma, si era pensato alla questione parcheggi, ma il manager di allora dichiarò che prima si doveva rimettere in sesto la struttura, poi si sarebbe pensato ai parcheggi e così è passato del tempo. La situazione è peggiorata, se possibile, perché quell'area prima usata come parcheggio ha lasciato spazio all'ospedale G8, ora composte di terapia intensiva per il Covid ed è stata una fortuna, e altri container per altre attività. Negli anni poi si era parlato di vari progetti per realizzare i parcheggi, ma tutto si è arenato, poi è arrivato il Covid e la questione non è più centrale, ma le segnalazioni ogni giorno sono numerose e basta farsi un giro in zona per vedere quanto sia difficile parcheggiare, ma anche semplicemente transitare in strada perché le macchine sono davvero ovunque.